Noi non vogliamo solo essere bravi a fare il nostro lavoro, vogliamo essere anche a servizio del cittadino e per essere a servizio veramente del cittadino dobbiamo semplificargli la vita. Quindi essere legati al territorio vuol dire anche questo, fare in modo che un cittadino non debba girare dieci uffici quando si trasferisce la propria residenza. Insieme per semplificare, credo sia lo slogan migliore di questa iniziativa. Grazie.